Tutto è pronto per Roma Drone Campus 2018. Domani mattina qui al Dipartimento di Ingegneria dell'Università Roma 3 apriranno i battenti la quinta edizione di questa manifestazione dedicata ai sistemi a pilotaggio remoto, ai cosiddetti droni. Avremo i più grandi esperti nel settore a livello nazionale, le istituzioni, l'ENAC e l'Agenzia Nazionale di Sicurezza al Volo ci racconteranno al 2017 come va questo settore e poi sentiremo le aziende, le imprese per vedere le ultime soluzioni tecnologiche e le problematiche di questo mercato. Insomma un grande appuntamento che verrà concluso domani nella tarda mattinata con la consegna dei Roma Drone Awards 2018. Avremo droni per la Polizia di Stato, per la Croce Rossa Italiana, per Università e Startup. Un appuntamento imperdibile da seguire anche online.